Scendiamo di categoria ma continuiamo a parlare di calcio, calcio di promozione. Il Trivento torna al successo casalingo. A farne le spese i Donchies Agnone, 6 a 1 il risultato al termine dei 90 minuti. Pomeriggio da incubo per i Donchies Agnone sul terreno del Trivento nel recupero della prima giornata di ritorno del torneo di promozione. I padroni di casa per l'occasione con la nuova divisa Biancazzurra pressano subito gli avversari nella propria metà campo per tornare alla vittoria prima possibile. In una giornata primaverile sul comunale di via Acqua Sant'Anni la sblocca dopo poco più di 60 secondi Cirenei, freddo dinanzi all'estremo Patriarca. Si parietto attorno al settimo il fischietto Isernino De Lucia interrompe momentaneamente le ostilità in campo per l'assenza delle bandierine ai quattro angoli. Partita ripresa senza altri intoppi qualche minuto dopo. La partita è a senso unico. Paolo Di Blasio colpisce il cuoio tra palo e portiere attorno al decimo del primo tempo. Poi ancora il compagno di reparto Cirenei che gonfia la rete a metà tempo sull'uscita alta non perfetta da azione d'angolo di Patriarca. Fra stornati gli agnonesi non riescono ad abbozzare alcuna reazione degna di nota. Nel finale di primo tempo arrivano le altre due marcature dei trignini di Lorenzo Viglione. Ripartenza letale di Fagnani sulla corsia sinistra. Scarico all'indietro per il traversone immediato nel cuore dell'area. La riete di Blasio non si fa pregare e coglie impreparato Patriarca per il 3-0 dei locali. Trascorre appena un giro di lancette l'esterno di colore Coulibaly tra i migliori in campo. Dopo il taglio in area si presenta dinanzi al portiere avversario e firma il poker. Nel recupero della prima frazione errore in disimpegno di Viglione che appoggia per la punta giallonera Marco Vecchio. Destro potente dal limite dei 16 metri che spaventa Minichillo. E' questo l'unico segnale di presenza degli agnonesi. A rientro dagli spogliatoi i donches provano a dare un senso alla loro partita. Castagnelli svetta di testa servito da calcio piazzato. La torsione aerea è perfetta. Nulla da fare per il portiere Minichillo. Trivento 4 Agnone 1 al nono minuto. Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti si ripresentano nell'area dei padroni di casa. Mastro Stefano serve di lollo. Minichillo abbassa la sala cinesca. Il Trivento decide allora di tornare in partita e alza i ritmi di gioco. Cirenei, Coulibaly Cirenei. Prima del ventesimo arriva il quinto. Dispiacere per l'estremo agnonese patriarca. Doppia opportunità qualche minuto più tardi per i biancazzurri. Prima Cirenei spara addosso al portiere avversario. Da distanza comoda sul proseguimento dell'azione. Il giovane Iocca trova l'opposizione in angolo del portiere sul primo palo. I Donkis alzano bandiera bianca definitivamente e lasciano campo aperto ai Triventini. Minuto 33. Ennesima percussione centrale in area. Ma è troppo morbido il tocco di Fagnani a scavalcare patriarca. Ma la sesta e ultima marcatura arriva prima del gong. Da Coulibaly il cambio di campo verso il giovanissimo Scarano. Assiste perfetto per Fagnani che ben appostato supera patriarca con un preciso destro all'angolo. È l'ultima emozione di una gara giocata a piacimento dai locali che salgono a 23 punti in classifica. I Donkis invece devono recitare il mea culpa di questo passo. La retrocessione. Sarà una certezza.